ben ritrovati a tutti quanti a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di uno strumento interessante che può essere utile ovvero time shift si chiama così questo software che ci permette di salvare lo stato del nostro sistema ad una certa data allora time shift crea i cosiddetti snapshot di un sistema sul quale installato e lo può fare automaticamente a scadenze regolari che decidiamo noi ogni ora ogni giorno ogni settimana ogni mese oppure anche con time shift possiamo creare degli snapshot ovvero appunto degli stati del nostro sistema anche manualmente quando vogliamo noi ecco quindi lo scopo di time shift non ha niente a che vedere nelle sue impostazioni per difetto con il salvataggio con il backup con il safe dei nostri dati personali ma bensì di tutto quanto sta attorno ai nostri dati ovvero del sistema in quanto tale nel nostro caso stiamo parlando di ubuntu e quindi time shift ci permette di creare un immagine uno stato del nostro sistema ubuntu a una certa in un certo giorno cosa può servire uno strumento di questo tipo naturalmente a recuperare una situazione compromessa quindi se per un qualsiasi motivo il nostro sistema ubuntu non dovesse più partire o funzionasse in modo anomalo quindi non più affidabile o dei programmi che partono e si bloccano per dire ecco un programma che sempre funzionato tutto un tratto chissà cosa ho fatto sul mio sistema non mi ricordo più il programma che ho proprio bisogno non funziona più occidente una settimana fa funzionava con time shift io posso ripristinare il sistema alla situazione che so di un giorno fa di una settimana fa di un mese fa e quindi ritrovarmi con il sistema funzionante come a quel momento questo è lo scopo di time shift ecco chi usa chi ha l'abitudine di usare delle macchine virtuali per esempio con virtual box sa benissimo che con le macchine virtuali si può pasticciare come si vuole a patto che si abbia a disposizione uno snapshot al quale tornare dai pasticci che abbiamo fatto ed è un pratica corrente nelle macchine virtuali installare un sistema nuovo per esempio la nuova versione di ubuntu vogliamo provarla in una macchina virtuale prima di installarla oppure puramente per curiosità la installiamo ci creiamo uno snapshot in modo che l'installazione fresca pulita sia salvata e congelata in quella situazione poi possiamo pasticciare nella macchina virtuale a un certo punto pasticcia pasticcia non partirà più sarà disastrata sarà lenta e allora possiamo sempre tornare allo snapshot fatto con la macchina virtuale ecco lo stesso sistema lo stesso principio ce lo mette a disposizione questo software chiamato appunto time shift noi nel nostro sistema questa volta non più virtuale ma nel nostro pc vero reale sul quale abbiamo installato il nostro sistema possiamo crearci queste immagini questi snapshot questi punti di ritorno in modo da garantirci un ripristino del sistema in caso appunto di problemi di qualsiasi genere ecco questo diciamo che il vantaggio delle macchine virtuali viene portato anche nella nostra macchina reale allora diciamo che facendo un discorso più generale è vero che time shift quindi è una comodità perché ci permette anche diciamo così tra virgolette psicologicamente di agire più tranquilli sul nostro sistema possiamo osare ad installare software particolare che non abbiamo mai usato o a fare delle configurazioni azzardate perché tanto sappiamo che c'è che ci siamo creati un punto di ritorno di time shift prima di fare questi eventuali pasticce quindi è sicuramente una comodità in più perché in pochi minuti time shift ci fa ci ripristina il sistema in modo che sia di nuovo funzionante come prima teniamo comunque presente come ho detto all'inizio di questo video che time shift è appunto una comodità in più che salva i file e le configurazioni del sistema e non i nostri dati personali non è il suo scopo o meglio volendo diciamo forzare ampliare il suo scopo si potrebbe anche fargli includere le cartelle con i nostri dati personali ma dichiaratamente non è il suo scopo è anche poco senso usare time shift come strumento di backup di salvataggio dei dati perché ha tutt'altro scopo time shift serve a salvare il sistema e non i dati quindi ricordo sempre ancora per l'ennesima volta come ho già fatto in più di un video sul mio canale che l'importante la cosa veramente importante è salvare i nostri dati perché i nostri dati sono unici creati da noi e non sono recuperabili in alcun modo se vanno persi quindi l'importante è assicurarsi di salvare i propri dati che sia sulla nuvola che sia su un disco esterno a casa propria dove volete voi ma salvare i dati salvare il sistema ovvero l'installazione di ubuntu per esempio nel nostro caso è diciamo importante per la rapidità di recupero del sistema con time shift ma non è non sarebbe una cosa indispensabile perché sapete benissimo che rovinato un sistema lo si restalla e lo si ripristina in poco tempo però in poco tempo ma sicuramente in più tempo che non con un paio di click a tornare a una situazione precedente grazie a time shift quindi ecco è sicuramente una comodità ripeto ma non è indispensabile se non abbiamo mai usato time shift finora non è che eravamo scoperti di fronte a pericoli per il nostro sistema irrecuperabili in un sistema come ubuntu basta innestare la pennetta usb o il cd o il dvd e lo si recupera in una mezz'oretta sono i dati che non possono essere recuperati quindi importante sono quelli da salvare time shift ecco è un come dire uno strumento per aumentare il comfort di utilizzo del nostro sistema per evitare di dover ricominciare a installare da zero se abbiamo rovinato qualcosa time shift ci salva la situazione ecco pur non essendo assolutamente indispensabile però è un ottimo strumento allora non è l'unico strumento che permette di fare delle immagini dei salvataggi dello stato del nostro sistema time shift è uno dei sistemi a disposizione e ho trovato che ha delle sue caratteristiche particolari e peculiari per le quali ho deciso di adottare time shift e non altri sistemi e lo spiego qui quindi time shift è diverso da altri strumenti a meno da quelli che ho visto così senza neanche troppo indagare ho guardato i più i più noti come potete vedere qua sotto clonzilla e ghost for linux per esempio solo un paio perché è diverso time shift perché non richiede di riavviare il pc con un cd o una pen usb in live per eseguire il suo compito quindi time shift lo usate direttamente nel vostro sistema attivo mentre state usando il vostro pc mentre altri sistemi come ne cito appunto un paio qui per per vostra conoscenza i famosi clonzilla e ghost for linux loro sì invece che sono delle piccole distribuzioni che si che vanno su un cd o su una pen usb dalle quali bisogna avviare il proprio pc per poter fare un'immagine completa del proprio sistema vedete che dagli screenshot per questo il sito di clonzilla vedete che è un'interfaccia tipicamente a caratteri come fosse da terminale perché appunto clonzilla con clonzilla bisogna far partire il proprio pc facendolo e clonzilla scusate prende il controllo quindi con il suo sistema operativo live clonzilla prende il controllo del pc e ci permette navigando nei menu ecco quali vedete i tipici menu con interfaccia a carattere quindi non grafica permette dunque di creare un'immagine completa del disco principale del proprio pc in questo caso si completa vuol dire anche dati inclusi però appunto lo svantaggio è che in questo momento non state usando il vostro pc ma state facendo qualcosa con un prodotto per creare il vostro safe del vostro sistema in quel giorno in quel momento e quindi ecco anche ghost for linux è la stessa cosa vedete qui gli screenshot stessa interfaccia a carattere non grafica li vedete qua è più o meno lo stesso principio dovete riavviare fare un reboot del vostro pc con il nestart una pen usb o un cd con installato questo sistema oppure clonzilla e agire in modo da creare su un disco esterno o da qualche altra parte insomma su un disco esterno di solito l'immagine uno a uno completa del vostro disco principale del vostro pc ecco time shift appunto io lo vedo diciamo dal lato del comfort di utilizzo della praticità time shift non richiede questo è un programma che si avvia direttamente a sistema attivo ecco e lo vediamo fra un attimo come funziona ecco e appunto questo vantaggio che voi potete lavorare tranquillamente col vostro pc non avete bisogno di una pen usb o di un cd esterno ma avete installato time shift direttamente nel vostro sistema e vi permette comunque di raggiungere lo stesso scopo inoltre io non so francamente perché non li ho mai usati se clonzilla e ghost forlino sono più o meno complessi o meno nell'utilizzo ma sicuramente so che time shift è semplicissimo nell'utilizzo quindi è molto semplice una volta che è impostato fa il suo lavoro e non ci si deve più preoccupare di lui quindi se decidiamo di creare dei salvataggi dello stato del nostro sistema a scadenze regolari appunto che sia ogni ora, giorno, settimana o mese è tutto automatico non dobbiamo più preoccuparci di nulla se non richiamare time shift quindi attivarlo se abbiamo bisogno di lui quindi di tornare a una situazione precedente è veramente molto semplice da usare ecco come si installa? time shift si installa con un suo archivio PPA dedicato ecco qui nello sfondo ho la pagina principale dello sviluppatore di questo prodotto dove lui spiega cos'è cosa fa perché fa le cose in un certo modo e qui ci è spiegato anche come si installa time shift vedete qui i soliti tre comandi da terminale che io riporto qui e vi riporterò anche nella descrizione del video quindi i soliti comandi ormai è da un po' di video se seguite in progressione il mio canale è da un po' di video che si vedono questi stessi comandi insomma ecco il primo per aggiungere l'archivio PPA necessario quindi aprite un terminale copia e colla di questo comando password e seguite le istruzioni quando è finito secondo comando per aggiornare il sistema e fargli riconoscere il nuovo archivio PPA aggiunto terzo comando per installare il programma time shift appunto tutto qua qui ormai è cosa credo consolidata anche per tutti gli iscritti al mio canale una volta installato ovviamente possiamo iniziare ad usarlo ecco e la sua icona è questa la vedete qui l'ho messa qui tra l'altro sto usando time shift in una macchina virtuale l'ho installato anche sul mio sistema vero però per ovvie ragioni di praticità ve lo mostro in una macchina virtuale in modo da poter anche disinstallare software installare per dimostrarvi come lavora time shift quindi ecco il motivo per cui posso anche spegnere il browser così guadagno un po' di memoria nella macchina virtuale ecco il motivo per cui dicevo agisco vi mostro in questo video come come lavora time shift in una macchina virtuale e non nella mia macchina reale vera è l'unico motivo allora time shift ha questa icona diciamo sfondo rosso con una T un po' scritta in modo artistico dovrebbe essere la T di time shift quindi si fa click si attiva si apre il programma una volta installato chiede la password perché c'è una ragione ovviamente è che ha bisogno dei diritti di amministratore di root questo programma per poter andare ad accedere a tutte le cartelle di sistema necessarie e utili a creare la copia dell'immagine del sistema dello stato del sistema non se non lavorasse come user amministratore ovviamente non avrebbe accesso a tutte le cartelle necessarie quindi per forza ed è giustificato che questo programma lavori con i diritti di amministratore quindi mettiamo la password la nostra password per far avviare time shift l'interfaccia grafica di time shift eccolo qua qui naturalmente io l'ho già provato l'ho già avviato un paio di volte come vedete nella mia macchina virtuale ho già creato due due snapshot due immagini del del sistema installato in questa macchina virtuale a due riprese diciamo nello stesso giorno da un paio d'ore di distanza però quando voi lo avviate la prima volta mi sono creato un paio di immagini qua lo avviate la prima volta ovviamente è vuoto l'elenco degli snapshot perché non l'avete mai usato e si presenta così scusate la prima volta parte e si si attiva subito quindi dovete aspettare che finisca il suo lavoro si attiva subito per capire quanto è grande quanto sarà grande l'immagine di sistema che lui dovrà dovrà crearsi vedete qui in basso a sinistra estimating system size quindi lui senza che voi facciate nulla è appena avviato la prima volta lui comincia a lavorare a passare tutte le cartelle di sistema e calcolare quanto è grosso il sistema da salvare per creare lo snapshot quanto spazio richiede un'immagine uno snapshot per essere salvato qui sulla destra vi mostra il lavoro che progredisce con questa sfumatura verdina che scorre avanti e indietro in questa barra con le bande grigie vedete questo verde questa zona verde che fa avanti e indietro intanto che lavora in più c'è questo pallino nero qui a sinistra vedete piccolino qua questo pallino nero fa un po' su e giù un po' come una pallina da ping pong o da tennis che rimbalza a terra continua a far su e giù finché sta lavorando il programma timeshift una volta finito di lavorare ha finito i suoi calcoli e in questo caso vedete che terminato il lavoro snapshot non ce ne sono perché non l'avete ancora fatto nemmeno uno vi dice qui sempre in basso a sinistra che il primo snapshot prenderà posto per 4 gigabyte ecco tutto qua una volta che l'avete avviato la prima volta ha fatto il suo lavoro sa che vi indica che ci sono bisogno 4 gigabyte così che voi sapete se avete più dischi e volete diciamo archiviare questi snapshots su una partizione del vostro disco il pc o su un disco esterno dove volete voi perché da questo menu tendina qui in alto potete scegliere su quale disco non necessariamente sul disco principale del vostro pc potete scegliere anche un disco esterno connesso al vostro pc per salvare questi snapshot in questo caso nella macchina virtuale ho un disco solo quindi il menu tendina mi presenta una voce sola però qui in basso una volta che lui ha calcolato vi dice ho bisogno di un tot numero di gigabyte così potete verificare con il disco scelto se avete spazio a sufficienza io ho già preso ho già salvato un paio di situazioni dicevo della macchina virtuale il primo avete visto che mi ha occupato circa 4 gigabyte quelli successivi siccome ovviamente lavora in modo intelligente time shift non occuperanno sempre 4 gigabyte ma solo le modifiche in sostanza quindi vedete che lui mi dice una volta che avete iniziato ad usarlo mi dice quanto c'è ancora libero di posto per essere usato e poi un altro paio di opzioni qua quella più a destra vi dice quanto è vecchio l'ultimo snapshot che avete preso in questo caso 5 giorni fa infatti siamo al 24 ottobre e io l'ho preso il 19 ottobre l'ultimo quindi 5 giorni fa vi dice fai attenzione che stai invecchiando l'immagine che hai del tuo sistema se vuoi tornare a quell'immagine lì più vecchia è più cose perderai ovviamente perché lui ti ripristina il sistema proprio allo stato di quel giorno lì quindi più tempo passa ovviamente più voi lavorate sul vostro pc e più rischiate di perdere impostazioni che avete già fatto e che magari non volete perdere quindi giudicherete poi voi con quale frequenza prendere queste immagini di sistema in modo che non invecchino troppo ecco qui in mezzo vi indica in questo caso specifico che non è schedolato nulla ovvero che non è attivo il meccanismo che prende gli snapshot automaticamente ogni ora ogni giorno ogni settimana oppure ogni mese ecco non nella macchina virtuale ha poco senso naturalmente solo per esercizio non ho attivato questo questo sistema che adesso vediamo come funziona allora il primo pulsante qui sulla sinistra è quello che ci permette di fare quello che ho fatto io qui due volte ovvero di forzare la cattura di uno snapshot manualmente quindi al di fuori degli automatismi a scadenze regolari quindi schiacciando qui ed è quello che si fa di solito la prima volta quando avete appena installato il programma schiacciando qui prendete una prima immagine di partenza del vostro sistema lo stato corrente il secondo pulsante è quello che vi permette di fare per così dire il contrario ovvero di selezionare un'immagine catturata nel tempo e dire voglio tornare a questa quindi schiacciate qui e dite voglio tornare a questa immagine e poi vedremo come funziona il terzo pulsante è quello che vi permette di visualizzare sul sul disco dove avete deciso di salvare gli snapshot dove li memorizza il programma time shift come dico qui gli snapshot vengono salvati nella cartella barra time shift quindi direttamente sotto la root barra time shift lo vediamo qui eccola qua vedete sono direttamente nella prima cartella capostipite dell'albero delle cartelle di un sistema linux quindi la slash la barra così e subito sotto c'è time shift la cartella con contenente vedete vedete i due le due sottocartelle degli snapshot che ho preso con il nome dell'ora e della data quindi il primo e il secondo qua dentro potete vedere che ci sono un po' di file di lavoro di utilizzo tecnici per time shift che gli permettono di fare il suo lavoro e dentro vedete che c'è tutto tutte le cartelle di sistema del vostro sistema ubuntu installato vedete bin ed tutto la home con dentro la nostra home attenzione nella nostra home cosa è salvato questa è la caratteristica mostra file nascosti della nostra home non è salvato nessun dato personale nostro ma solo tutte le cartelle nascoste e i file nascosti che sono che contengono le configurazioni del nostro sistema diciamo del sistema della nostra sessione legati alla nostra user se su questo pc ci fossero più user ci sarebbero diverse home cartelle home ognuna con i suoi file di configurazione personalizzati per ogni user ecco quindi ripeto quello che ho detto all'inizio del video time shift non è fatto non è impostato per difetto per salvare i nostri dati personali ma solo i dati di sistema quindi tutte le configurazioni tutti i programmi installati qualsiasi cosa al di fuori dei nostri dati personali vedete persino una cartella temporanea viene salvata tutto usr tutto qualsiasi cosa se guardate queste cartelle e guardate le cartelle effettive di sistema quindi qui ho schiacciato computer quindi queste sono le cartelle del sistema vivo attuale vedete che sono le stesse cartelle praticamente e vedete tutte o quasi tutte quelle che abbiamo visto prima quindi se torniamo dentro in time shift nello snapshot snapshot qua vedete che qui ci ritroviamo con tutte le cartelle che abbiamo visto un attimo fa vere quindi è proprio una copia uno a uno del sistema e non dei dati attenzione ecco quindi abbiamo visto questo pulsante permette di andare a vedere dove salva gli snapshot ecco diciamo che normalmente o almeno non ha nessun inconveniente salvare questi snapshot direttamente sul disco principale del pc cioè al contrario del salvataggio dei nostri dati personali che per ovvi motivi va fatto al di fuori del disco del nostro pc perché se si rompe abbiamo perso i nostri dati e i nostri salvataggi fossero tutti lì non è così importante salvare al di fuori del disco principale questi snapshot perché se si rompe il disco se è rotto il pc ha poco senso ripristinare un sistema su un pc che non va più e quindi anche se vanno persi non ha così importanza e e ha importanza invece la sua utilità finché il pc è ben funzionante e quindi averli direttamente nella cartella timeshift sul disco principale è la cosa più comoda perché non dovete connettere dischi esterni non dovete far niente e li avete già lì a portata di mano come vedete qua senza preoccuparvi di nulla direttamente sul vostro disco principale quindi ecco il perché non ci si deve preoccupare di salvarli chissà dove a meno che non si voglia fare qualcosa di particolare che spiego fra un attimo allora il delete permette di cancellare il snapshot ecco attenzione che almeno fino alla versione attuale 1.1.1 il delete non chiede conferma quindi se schiaccio questo pulsante lo snapshot sparisce direttamente senza chiedermi sei sicuro di cancellare sì o no quindi se non volete perdere l'immagine non fatelo e poi c'è l'ultimo pulsante qua sulla destra quello per le impostazioni settings ecco la prima scheda delle impostazioni è quello che ci permette di gestire la la presa di queste immagini di sistema di questi stati di sistema a scadenze regolari adesso qui è spento sulla macchina virtuale ma per accenderlo basta far così il meccanismo è acceso e si può decidere se far prendere un'immagine ogni una volta al mese una volta alla settimana una volta al giorno una volta ogni ora o anche tutti assieme o anche ogni ora ogni giorno ecco insomma a dipendenza di quanto è critico il sistema o diciamo a dipendenza di quanto voi siete abituati a giocare col vostro sistema e quindi a rovinarlo spesso magari addirittura ogni ora fa comodo avere un'immagine alla quale tornare e poi c'è anche quest'opzione del boot che permette di salvare anche la situazione del di di grab del del menu di partenza del pc ecco che solitamente con ubuntu installato normalmente e solo ubuntu sul pc non si vede mai quel menu lì e solo quando ci sono delle difficoltà di partenza del pc che è necessario far apparire questo pre menu che si chiama grub ecco scritto grub penso che si pronunci grab in inglese questo pre menu che permette di selezionare con quale kernel far partire il nostro sistema oppure in modalità di ripristino eccetera eccetera ecco normalmente quindi se il sistema funziona bene non lo vediamo mai quel menu però è importante che sia ripristinato anche lui e quindi ecco che c'è l'opzione per ripristinare anche le opzioni di boot cioè di partenza del pc ovvero di quel pre menu che dietro le quinte lavora sempre quando parte il nostro pc ecco quindi qui potete scegliere una volta salvata l'impostazione il programma Tanshi ci pensa a lui a impostare tutto quanto per rispettare queste scadenze e regolarmente lui prende un'immagine ogni appunto ogni scadenza di queste adesso io lo rispengo perché appunto sulla macchina virtuale non ha senso che lo faccia poi c'è l'auto remove perché naturalmente è tutto bello è tutto automatico non dobbiamo preoccuparci di niente ma lo spazio su disco prima o poi finisce non può andare avanti all'infinito ad accumulare immagini di sistema perché poi anche se sono troppo vecchi ha poco senso ed ecco che c'è un ciclo di vita di questi snapshot che vengono presi automaticamente quindi per difetto sono impostati in questo modo quelli presi ogni mese vengono cancellati automaticamente dopo due mesi cioè uno snapshot resta elencato qui resta archiviato nel programma per due mesi poi quando passa l'età di due mesi viene cancellato quindi praticamente restano sempre attivi due snapshot mensili delle settimane tre settimane restano attivi più in là delle tre settimane iniziano a essere cancellati quelli giornalieri dopo cinque giorni quelli che vengono presi ogni ora ogni sei ore viene cancellato quello più vecchio di sei ore prima quelli del boot quindi ripeto quello del menu group o grab pre menu di partenza del pc ogni cinque esemplari scusate ogni cinque reboot viene cancellato il più vecchio quello di cinque partenze prima ecco perché la particolarità di questa ultima mozione di boot è che viene presa l'immagine da time shift alla partenza del pc 30 minuti dopo ogni partenza di pc viene presa un'immagine di questo boot e quindi questo non è a tempo ma è a esemplari di salvataggi ogni cinque ripartenze del vostro pc quello più vecchio di cinque viene cancellato e il ciclo è questo e in ogni caso qualsiasi tipo di snapshot quindi immagino anche quelli presi manualmente quindi tutti i tipi di snapshot più vecchi di 200 giorni quindi i miei due snapshot qua presi il 19 ottobre quando passeranno più vecchi o non saranno più vecchi di 200 giorni mi verranno comunque cancellati perché non ha più senso tenere delle immagini di sistema più vecchi di 200 giorni e in ogni caso quando lo spazio sul nostro disco va sotto la soglia dei 2 gigabyte vengono puliti gli snapshot più vecchi anche se non sono arrivati alla scadenza perché c'è bisogno di creare spazio ecco questi limiti sono quelli per difetto e se facciamo un click vedete che possiamo cambiare possiamo tenere più o meno alzare o abbassare questi limiti questi qui sono quelli quando voi installate il programma sono quelli impostati per difetto poi no ecco advanced qui lasciamo stare quello che permette di escludere o includere ulteriori cartelle da salvare oltre a quelle di sistema già impostate per difetto ecco magari l'unica cosa interessante che vi mostra qui se clicchiamo qua vi mostra ciò che in realtà non salva quello che viene escluso perché non serve quindi per esempio ecco la cartella dei file temporanei quindi quelle che il nostro sistema Ubuntu usa per creare i suoi file di lavoro o salvare temporaneamente dei file viene esclusa cioè viene creata la cartella temporanea perché il sistema la richiede ma non viene salvato il contenuto perché non ha importanza per il funzionamento del sistema e così via altre scusate altre cartelle che in realtà non sono indispensabili nel recupero della situazione di un sistema ci sono varie cartelle che vengono escluse ecco compresi alcune cartelle nascoste comunque nella nostra home nelle nostre home vengono salvati tutti i file nascosti e cartelle nascoste di configurazione come ho detto prima ma alcuni no tipo i thumbnails le cache quelli che proprio non sono indispensabili inoltre la home directory qui dice che tutti i file sono esclusi tutti gli altri file a parte quello che ho detto prima a parte quelli di configurazione sono esclusi quindi i nostri dati personali non sono salvati appunto perché non è lo scopo di questo programma ecco adesso vi ho mostrato anche come si imposta il programma e quello che ho detto prima durante la presentazione di timeshift che è molto semplice da usare perché una volta impostate queste impostazioni scusate il gioco di parole non dovete più preoccuparvi se vi soddisfano così come sono impostate non dovete più preoccuparvi di nulla fate salva avete salvato le vostre impostazioni il programma è attivo o gli automatismi che hanno attivato che ha attivato questo programma sono attivi anche se lo chiudete il lavoro viene fatto comunque perché le schedulazioni automatiche agiscono anche senza avere aperto il programma ovviamente questa è solo l'interfaccia grafica di gestione degli snapshot ma non è indispensabile che sia aperto il programma per fargli prendere le immagini di sistema scadenze regolari non è ovviamente così potete anche dimenticarlo spento per sempre ma lui continua a lavorare finché non spegnete l'automatismo per esempio ecco gli ultimi pulsantini qua sulla destra dunque uno è per fare un refresh quindi rinfrescare aggiornare l'elenco degli snapshot fosse necessario uno ti permette se serve di vedere il logo ovvero l'elenco delle operazioni che ha fatto il programma durante la sincronizzazione del sistema ecco non è io ve lo mostro diciamo per informazione ma è chiaro che non è molto chiaro quello quello che fa insomma tutte queste righe scritte qui hanno il loro significato questi simboli per il programma e vedete che si salva tutte tutti i file di sistema vedete che tutte le configurazioni potete giusto vedere l'elenco se ha cancellato qualcosa se ha aggiunto qualcosa ecco può essere chiaro o meno un po' tecnico come elenco però è il giornale delle operazioni che ha fatto questo programma così come un altro tipo di giornale delle operazioni fatte sono questi qui tutti i vari log le operazioni che sono state fatte dal programma però per noi diciamo utilizzatori normali utenti comuni sono meno importanti ecco adesso finalmente passiamo a vedere rapidamente questi ultimi punti che ho messo nella mia scaletta e poi facciamo una cosa pratica giusto per vedere come funziona il programma allora dicevo che salvando gli snapshot sul disco principale come normalmente si fa è possibile quindi ripristinare il sistema a una certa data ecco naturalmente il consiglio cos'è se abbiamo intenzione di applicare tante modifiche che possono essere anche pericolose per il nostro sistema di fare uno snapshot manuale prima ovviamente in modo da poter tornare indietro con il sistema salvando invece gli snapshot non direttamente sul disco principale ma su una partizione separata o su un disco esterno è possibile anche addirittura cambiare completamente il nostro pc possiamo installare un sistema completamente diverso con un'altra interfaccia che non sia unity o addirittura proprio anche un'altra distribuzione linux o quello che volete voi perché perché avendo poi la possibilità di eseguire time shift anche dall'altro sistema linux installato per dire e avendo lo snapshot salvato su un disco esterno è possibile tornare di nuovo al nostro ubuntu unity anche se abbiamo fatto i nostri esperimenti con un'altra distribuzione che so volete installare linux mint provarlo per una settimana che ne so ecco giusto per fare un esempio voi avete lo snapshot della situazione attuale del vostro sistema opportunamente fatta su un disco esterno prendete la pennetta usb vi installate da zero linux mint lo provate poi vi piaccia non vi piaccia oppure così era solo per vostra curiosità innestate il vostro disco esterno installate time shift su mint se non l'avete ancora installato per dire avviate time shift vi connettete al disco esterno qua lo scegliete vi verranno presentati gli snapshot disponibili e dite voglio tornare a quello stato qui e time shift provvederà a far sì che vi venga annullato tutto il lavoro che avete fatto in installazione con il vostro linux mint per dire e vi farà tornare il vostro punto originale a quel momento ecco quindi c'è una differenza diciamo fra salvare gli snapshot sul disco principale perché ovviamente se li avete salvati lì se installate un nuovo sistema operativo vi passa sopra e vi perdete gli snapshot ovvio no quindi c'è una differenza fra salvare su dischi esterni e salvare sul disco principale se non avete intenzione di fare operazioni così drastiche come nel mio caso che mi tengo ubuntu mi va benissimo di salvarli sul disco principale ecco l'ultima notazione naturalmente è che il ripristino del sistema una volta finito il ripristino del sistema in caso fosse necessario o da con time shift eseguito per esempio da un cd o da una penna usb esterna quindi perché magari il nostro pc non parte più quindi abbiamo bisogno di far partire il nostro sistema con un mezzo esterno oppure anche invece con il nostro sistema direttamente il nostro sistema operativo ancora operativo ma vogliamo comunque tornare a una situazione precedente quindi scelgo lo snapshot dove voglio tornare faccio il mio restore e comunque richiesto alla fine ovviamente un riavvio per completare l'operazione perché non tutti i file di sistema diventano attivi con il sistema vivo operativo e quindi alla fine comunque già time shift prevede di farvi fare un riavvio del pc ecco spero di essere stato sufficientemente chiaro adesso passiamo a una piccola parte dimostrazione pratica giusto per vedere come funziona soprattutto tutto il ripristino lo snapshot non ve lo faccio vedere anche perché basta schiacciare il pulsante parte e poi ci metterà un tot di tempo sto registrando il video sono una macchina virtuale vorrei aspettare troppo tempo sappiate che basta schiacciare il pulsante e la cosa parte e va la cosa interessante è vedere che funzioni effettivamente questo sistema e quindi fare un restoro ovvero un ripristino però per accorgersi se il ripristino fa effettivamente qualcosa o no dobbiamo introdurre una modifica nel nostro sistema e adesso qui ho aperto questo per nulla ecco una modifica nel nostro sistema potrebbe essere per esempio una cosa banale naturalmente timeshift diventa utile non sicuramente quando per errore abbiamo disinstallato un programma che facilmente lo reinstalliamo ma se abbiamo fatto cose peggiori al nostro povero sistema ecco però giusto per dimostrazione adesso vediamo se posso disinstallare un programma aspettiamo un attimo e come detto siamo in macchina virtuale con tutta calma si decide a partire lo store center 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 si decide a partire coraggio e vedete con un pc con relativamente poca memoria per tenervi anche una macchina virtuale non è non è facile ecco che stiamo arrivando ok vediamo un po per esempio un libro office ecco diciamo che bah ecco io ho deciso di togliere disinstallare in un momento di follia libro office calc e quindi lo disinstallo ecco qua sta disinstallando quindi aspettiamo che faccia il suo lavoro tanto magari se riesco a mettere in pausa il video poi ci vediamo fra un attimo rieccoci qua conclusa la disinstallazione vedete che qui sul lanciatore sul launcher è sparita l'icona e qui non c'è più il vistino è libre office calc se n'è andato sparito dal mio sistema ops come facciamo ripristiniamo il nostro sistema a questo punto io mi ero opportunamente creato un'immagine sulla quale sono sicuro che c'era ancora installato libre office calc quindi faccio il mio bel restore schiacciamo restore lui ci dice inizia a chiederci dove deve essere ripristinato questo restore adesso abbiamo un disco solo non c'è problema è quello è l'installazione anche per eventuale il menu grubbo grab anche qui abbiamo un disco solo lo presenta già lui siamo a posto la scheda advanced come sempre noi non la tocchiamo non ci serve facciamo schiacciamo il pulsante restore e qui arriva un bel warning con bell'avviso nel quale ci viene detto che come ben sappiamo i file verranno sovrascritti sul disco di destinazione che se per un qualche motivo non funziona questa operazione può anche non più partire il pc perché magari il sistema è ripristinato a metà però è giusto per saperlo e quindi vi si chiede prima di far partire il ripristino o restore di salvare tutti i vostri dati personali e che alla fine vedete quello che vi dicevo un attimo fa alla fine vi verrà chiesto comunque di far ripartire il pc nel questo caso stiamo parlando di una macchina virtuale e ovviamente l'autore del software si premura di dirvi che lui ha fatto il lavoro come ritiene di averlo fatto il meglio possibile però questo software come tutto software libero è consegnato così com'è senza garanzie di funzionamento perfetto e senza responsabilità per qualsiasi danno al vostro sistema siete voi che decidete di usare il software se vi va bene e meglio se succede qualcosa siete stati avvisati ma questo c'è in tutte le informazioni di tutti i software non è che deve spaventare più di tanto e quindi avete letto tutti gli avvisi volete continuare con il restore sì bene facciamo sì e addirittura vi chiede volete prendere un ultimo snapshot del sistema corrente in questo momento quindi per il nostro esempio qui senza più il LibreOffice Calc installato prima di ripristinarlo volete addirittura prendere un'immagine ultima di questo sistema prima di ripristinare l'immagine che avete scelto noi diciamo di no perché non ci serve facciamo no e quindi parte subito l'operazione di restore ecco si attiva questa interfaccia terminale e vi avvisa naturalmente di non interrompere questo processo è lasciate pure il pc lavorare quanto ci mette ci mette e che il sistema poi verrà riavviato alla fine adesso sta creando tutto il necessario per fare il restore ovvero il ripristino quindi lasciamolo lavorare metto in pausa ancora il video ci sentiamo fra un attimo rieccoci qua nel frattempo la procedura è terminata e appunto come promesso Timeshift sta facendo ripartire il sistema il nostro pc ovvero in questo caso la nostra macchina virtuale adesso speriamo che riparta senza problemi vediamo un attimo se no la posso spegnere e farla ripartire vediamo se riparte da sola ecco qua sembrerebbe che sta ripartendo quindi durante il processo di ripristino voi non dovete toccare nulla vedrete passare molti messaggi in quel terminale che avete visto poco fa vedete passare tutto l'elenco delle cartelle di sistema tutto ciò che lui sta ripristinando o cancellando o rimettendo come alla data dello snapshot ci mette ovviamente il tempo necessario a dipendenza di quanto deve essere ripristinato o meno perché se avete toccato proprio un file solo ci metterà meno che se avete stravolto il vostro sistema comunque ecco qua sembra che stia tornando in vita la nostra macchina eccola qua vediamo un po' password aspettiamo un attimo e vediamo se è ricomparso il nostro libero office calc che è poi lo scopo della nostra dimostrazione è qui didattica nel nostro video per concludere il nostro video eccoci qua allora vedete che magicamente è tornata addirittura anche l'icona nel lanciatore proprio ripristinato uno a uno il nostro sistema ecco qua se io faccio click giusto per farvi vedere che non racconto fandonie senza trucco senza inganno avevamo disinstallato il libero office calc lo sto facendo ripartire ed eccolo qua il nostro libero office bene questo è il principio quindi se voi applicate delle modifiche al vostro sistema che poi non vi piacciono o vi pentite o vi creano problemi ripristinate il sistema tale quale al momento in cui avete preso la data al momento in cui avete preso lo snapshot che vi interessa al quale vi interessa tornare ecco nel nostro caso ripeto abbiamo banalmente tolto un programma e poi abbiamo ripristinato il nostro sistema il programma è tornato magicamente installato ecco con questo concluso questo malgrado tutto pensavo di essere più breve ma spiega una cosa spiega l'altra come sempre ecco comunque ho concluso questa presentazione spero che time shift vi interessi vi abbia interessato vi abbia incuriosito e magari vi invoglia questo video a installarlo anche voi sul vostro pc vero reale in modo da avere diciamo questo asso nella manica questa riserva in caso di pasticci al vostro sistema con questo concluso vi saluto e vi attendo al prossimo video ciao ciao